Ciao a tutti amici, sono sempre Vasa Giova Cagesco Vi volevo farvi dire Cioè, vi volevo introdurre Che sto per iniziare una serie su Minecraft Ovviamente questa è già iniziata da un po' di tempo, sì E quindi già ho formato a bestia E... No, vi faccio vedere quello che ho creato fuori Perché, non vi preoccupate, qua non è fuori, eh Perché qua, praticamente, se io faccio così Pamme C'è una grotta Una grotta non esplorata, ovviamente E... Sto dicendo Vi sto per introdurre solo Che ho fatto la serie di Minecraft No, vi sto dicendo Subito Però Che cacchio è sotto Ma io ho solo un pezzo di sto uno Perché se lo ho uno, non ho cotto Vabbè, comunque Vi dico solo questo Che Inizieremo una serie di Minecraft Forse farò anche una serie con Stelefano Stelefano, sì Il giorno dopo, oppure sabato, non mi ricordo Provenzo più il giorno dopo Perché devo uscire con i miei amici Ciao Bruno Devo uscire con i miei amici E... Tra cui Stefano E farò anche un video Così non vi terrò senza video per un giorno Capito? E' benissimo E... Vabbè Come avete visto Qua c'è un passaggio segreto Perché qui dentro Io ho farmato a bestia Guardate Stacchede Guardate quanti cacchio di diamanti E... Stavo dicendo Che sì Faremo una serie Vabbè Noi ci possiamo vedere In un prossimo video E... Capito? Allora Ditemi se Con questo microfono Si sente La mia voce Perché Se registravo senza microfono Non si sentiva Ma manca il cacchio E... Praticamente questa cosa Mi piace Un po' sui nervi E... Ditemi se con questo microfono Mi fa bene Vabbè Noi ci vediamo In un prossimo video Ehm Anzi In un prossimo video Cioè sabato Oppure Domenica Non mi ricordo Però penso più sabato Vabbè Noi ci vediamo Ciao Ciao